Ancora il Genoa, con il cross dentro, la madura, sfonda ancora! Ancora, prima di poi io, poi The Ball Perea E' senza costante, questo la fascia Usura il The Ball Stacco, ma ancora Repitizio Ciao ragazzi Allora Io ho, difficilmente Trovo parole quando vedo partite del genere Stava per segno il Genoa Ok Regà, ma che partita abbiamo visto? Che partita abbiamo visto? Pazzesca, regà Occasioni da una parte e dall'altra Dio, guarda Occasioni da una parte e dall'altra, stava al 92 Ma, regà, insomma, penso che La vittoria dell'Udinese sia Assodata, stava al 92 Con tre minuti di recupero 2-0, insomma, mi sembra Difficile che adesso l'Udinese riesca a Prendere due gol in un minuto Insomma Pazzesco, regà, regà È pazzesco Una partita pazzesca L'Empoli Eh sì, l'Empoli Che cazzo di l'Empoli L'Udinese, regà Ha cambiato allenatore E si è revitalizzato E non ho capito perché Prima era Se cambiavi un allenatore in corsa Avevi difficoltà a trovare La quadra della squadra Perché erano abituati con quello di prima Ma Con quello nuovo È più difficile Invece quest'anno Cambi allenatore E diventi più forte Così Va bene Però A parte tutto Udinese che regà Veramente ha fatto una partita Della madonna Genoa che anche Ha fatto una partita Della madonna Però regà Due squadre che a mio parere Cioè se fosse finita 3-3 sta partita Non avrei Nessuno avrebbe rubato niente Perché veramente Regà è stata pazzesca Una partita bellissima Giocata Alla grande Da entrambe le squadre Due squadre Che giocano in modo diverso Infatti il Genoa Punta sul possesso palla Infatti se andiamo a vedere Il possesso palla È nettamente a favore del Genoa 62 contro 38 Ovviamente per cento Tanto attenzione Eccolo È finita qui È finita È finita la partita Vince l'Udinese 2-0 E quasi 3-0 Con De Paul Però regà Allora Nel primo tempo Diciamo che La partita Poteva Era abbastanza Equilibrata Era abbastanza Cioè In generale S'era abbastanza Equilibrata Nel secondo tempo Il Genoa ha tirato Un pochino più in porta Però ecco La differenza Tra l'altro Parentesi Musso ha fatto Una parata assurda Regà Cioè non so se avete Non so se avete visto La parata Che ha fatto su Kwame Prima Allora Arriva palla e mezzo Colpo di testa La parata Traversa Poi colpo di testa Di Kwame E non so come L'ha tenuta fuori dalla porta Con la mano così Per terra Così non lo so Regà non so come abbia fatto Ma è pazzesco Musso Pazzesco Insomma Partita che A mio parere Non è scandaloso Che abbia vinto L'Udinese Anche se Secondo me Sarebbe stato buono Anche un Buono Nel senso Giusto Anche un pareggio Non sarebbe stato Clamoroso Ma non è clamorosa Neanche la vittoria Dell'Udinese Che Al quale faccio Faccio i complimenti Anche a quelli Che mi inviano i messaggi Perché giustamente Ci devono sempre stare Dicevo Faccio i complimenti Anche al Genoa Perché comunque Il Genoa Ha disputato Un'ottima partita Diciamo che è stato Anche abbastanza sfortunato Però Regà Come la partita Come Chievo Cagliari Anche questa È stata una partita Dove una squadra Ha fatto È stata cinica In questo caso L'Udinese Ha fatto tre tiri Due gol Non tre Però insomma Cambia poco È stata Più cinica Dell'altra E ha giocato Sulle ripartenze Il Genoa Fonda Il suo gioco Sul possesso palla Sul possesso palla Fondamentalmente Invece L'Udinese Giocava di ripartenza E L'ha sfruttato Tutte quante Bene Nel secondo tempo Ci sono state Un bel po' d'occasioni In cui L'Udinese Poteva anche andare Sul 3 a 0 Ricordiamo per esempio Un'occasione In cui Lasagna È andata tanto così Dal palo Oppure proprio Lo stesso Lasagna Ancora prima Sfruttando un regalo Della difesa Del Genoa Stava quasi Per segnare Porta vuota Se non fosse stato Perrato Insomma L'Udinese Ha sfruttato molto bene Il Genoa Ha sofferto tantissimo In difesa L'Udinese L'Udinese Si è difesa Abbastanza bene Adesso andiamo a vedere Ah tra l'altro Parentesi Per Mandragora Che gol ha fatto Mandragora Stop e sinistro All'incro Io quando ho visto Quel gol L'ho detto anche su Instagram Ho detto Basta Io non dico più niente Io non dico più niente Che cosa devo dire Quando vedi gol del genere Devi stare zitto E inchinarti Basta Perché Mandragora Ha fatto un gol Della Madonna Ok Chiusa questa parentesi Andiamo a vedere Andiamo a vedere Velocemente la situazione In classifica Delle due squadre Genoa 33 punti 13esima E Udinese 15esimo Ha 28 punti L'Udinese Che era a un punto solo Della zona retrocessione In questo modo Fa un bel balzo In avanti Verso la salvezza Il Bologna In questo momento Si trova a 24 punti Che è la prima Delle retrocesse Cioè Diciottesima E quindi Il Genoa Sta anche abbastanza tranquillo Anche se comunque Non è finita la stagione Ci sono ancora Da giocare Delle partite Insomma Diciamo che sono due squadre Che per il momento Possono stare abbastanza tranquille E l'Udinese Un po' più sull'attenti Detto questo Noi ci vediamo dopo Con Juventus Empoli Ovviamente è una partita Che Penso vinca la Juventus Insomma dovrebbe vincere La Juventus A meno di Clamorosi Che accade a me Cioè io dubito Vinca l'Empoli Ma anche il pareggio Mi sembra dubbioso Però vedremo Noi ci vediamo dopo Con Juventus Empoli Vi ricordo di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Di lasciare un tipo di piace E di seguirmi su Instagram E noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti